Grazie a tutti. 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 Vai a sancarci! Dobbiamo sempre irlo, sempre, anche se siamo rimeditivi, perché è l'unica alternativa che abbiamo. Io dubbito che il nostro paese esca fuori da questa situazione se non reagiamo. Potremmo reagire troppo tardi. Ora vi lascio la parola al signor Orazio che vi spiegherà qualcosa che è un po' diverso da quello che abbiamo detto finora, ma è sempre collegato a quello che vi abbiamo raccontato. Grazie. Sono poi entrati in vari movimenti politici nel 68, 70, 71, 72 e hanno messo in piedi una serie di organizzazioni, oramai abbastanza conosciute, che si chiamano per esempio la lotta continua e il potere operario. Queste organizzazioni sono partite apparentemente di estrema sinistra. In realtà oggi noi sappiamo che erano controllate dal Mossad, dalla CIA e dai debiti segreti italiani. Non ho capito. Ok? Allora, la sceneggiata della rivolta popolare di estrema sinistra che andava in onda fino a qualche giorno fa, e anche adesso la grande maggioranza delle persone sa che era di estrema sinistra quella condotta, ha portato quei signori estremisti fondatori di lotta continua, che erano 185 personaggi provenienti dalle più diverse aree professionali, lavorative, culturali, eccetera, sono arrivati a fondare questo movimento. Allora, a distanza di 40 anni, questi signori sono ancora in giro per l'Italia a fare macelli, a fare sfaceli, a fare danni, perché questi signori, come se noi oggi siamo 185 persone, fra 20 anni, su 185 persone, 45 persone sono direttori di telegiornali, di BG, di giornali, e se non direttori sono giornalisti di gran nome. Se non sono giornalisti, e contemporaneamente al fatto di essere giornalisti, sono anche parlamentari. Parlo, ad esempio, di Luigi Mancori, che ha fatto 200 legislature, sempre infiltrato ovviamente dai servizi segreti israeliani, americani e italiani, perché questi lavorano per questa gente. Come questi signori, che l'altro ieri sono stati approvati, si sono insediati abusivamente con un colpo di Stato al comando del Paese. Questi signori che si sono insediati l'altro ieri, sono tutti emanazioni delle banche internazionali. Cioè noi oggi, al potere d'Italia, abbiamo le banche internazionali, quelle che sono fallite molte volte, e che per uscire fuori dal fallimento hanno preteso finanziamento e rifinanziamento da parte degli Stati. Quegli Stati che adesso loro si vogliono comprare con i nostri soldi che gli abbiamo prestato prima. E' mai possibile una cosa del genere? Allora, noi abbiamo al comando del Paese, è il peggio del peggio, come si dice a Roma. Una banda di infami, una banda di delinquenti, una banda di masfrattori. E io mi ricaccio a quello che dicevano due personaggi politici importantissimi, molto importanti, che io per lungo tempo ho detestato perché non li conoscevo bene. E sono Aldo Moro. Grazie.